È partita molto bene la nostra stagione in quanto la categoria esordienti e la categoria allievi hanno già sostenuto tre corse ottenendo per la categoria esordienti tre podi, mentre la categoria allievi si è distinta molto bene dimostrandosi sempre all'attacco e sempre nelle prime file del gruppo. Per quanto riguarda la categoria giovanissimi invece hanno svolto la prima corsa domenica scorsa a Ponte Curona ad Alessandria e anche lì i nostri bimbi sono riusciti a dimostrare un'ottima padronanza del mezzo e della bicicletta ottenendo ottimi risultati nei primi cinque, nei primi dieci. Il vostro vivaio come cresce, come seguite questi ragazzi, come li aiutate a diventare grandi? In maniera diversa per le tre categorie, nel senso che i nostri piccoli, i giovanissimi, si allenano due o tre volte a settimana purtroppo adesso il meteo non è molto della nostra parte e comunque riescono a fare i loro allenamenti in una strada con poco traffico o chiusa seguiti dal loro direttore sportivo. Gli esordienti allievi invece sono più volte alla settimana sulle strade invece lì strade aperte al traffico e svolgono allenamenti prettamente specifici quindi scatti ripetute e vengono seguiti sempre dai loro rispettivi direttori sportivi e allenatori al seguito di macchine o scooter per stare il più vicino possibile al corridore e incitarli nel momento del bisogno. L'intera stagione che cosa vi riserva dopo le prime gare? Ma fondamentalmente gli obiettivi principali rimangono i campionati italiani a comano terme quest'anno, i primi di luglio per le categorie esordienti e allievi che riservano un circuito estremamente impegnativo. Per la categoria giovanissimi anche loro il meeting nazionale delle società ad Andalo l'ultima settimana di giugno dove si riuniscono tutte, dico quasi tutte le società italiane e della categoria giovanissimi per questa manifestazione gigantesca perché coinvolge quasi un migliaio di ragazzi e quindi è sicuramente un nostro obiettivo poter partecipare e poter divertirci con i bambini.